Eh, quell'occhio è così Che l'occhio deve essere sempre bello Questo qua è un po' sveglio, quell'altro è un po' Mi hanno trovato sotto te Ma cosa ha gridato nell'orecchio? Mi fa male Tutto i poncapuzza Faccio tutti i poncapuzza e tirosi i drughi Cos'è che dice? Eee bello a tutti ragazzi sono Rimo Aldigno E oggi ragazzuoli Siamo tornati qua Con le Reaction E' tornato il padre più trap Rap, trap, tutto di Italia Allora innanzitutto devo togliere sta roba Per poter parlare Allora ragazzi voi mi avete chiesto di tornare Perché mancava un po' di freschezza Mi sembra che in questo Momenti qui mancava la freschezza Allora ho sentito un attimo i miei collaboratori Mi ha chiamato Mambolosco Ho parlato con lui e mi ha detto Porta il sugo, porta il sugo in quel canale Perché manca il sugo Quindi ti sei un po' drippato oggi Poi mi ha chiamato anche Shiva E mi ha detto Papa Rimo per piacere Nel canale manca Manca, manca Le reaction Manca Ragazzi sotto Manca E sono il capo della banda Nei commenti sotto ogni video Vi continuate almeno a 10 persone di voi a scrivere Rimo ma le reaction? Rimo le reaction? Le reaction? Le reaction? Rimo le reaction? Papa Rimo che fa le reaction? Rimo le reaction? Rimo le reaction? PAM Sono qui a posto Sono sempre il capo del quartiere Sì raga la situazione non è cambiata Non è perché se non abbiamo fatto le reaction lui Ha perso posizioni No Papa Rimo è sempre al top Adesso andrò su qualche palco Quest'estate ma ha già tentato qualcuno Allora Papa Rimo oggi siamo qua per fare la reaction a dei nuovi artisti Un gruppo stavolta Non uno Non uno Un gruppo Un gruppo Sì Che si chiamano FSK Proprio FSK O la re de gang shit Non l'ho mai sentito Il titolo della nostra canzone Allora prima di tutto raga prima di partire Quanti like vuoi Papa Rimo? Quanti like vuoi per altre reaction? Sennò non le portiamo più 20.000 almeno 20? 20.000 E porto un'altra reaction con Mambo Losco Lo chiamo Lo chiamo Gli ho parlato 5 minuti fa E quindi posso portarlo Mambo Losco Se lo volete ve lo porto Ragazzi tutti un like ora Mi raccomando iscrivetevi al canale Perché stiamo per arrivare ai 500.000 Ragazzi mi raccomando Siamo ancora arrivati Veloci L'ha detto lui E niente ragazzi Detto ciò Allora il titolo della canzone papà Si chiama FSK Il loro nome La prova del cuoco La prova? La prova del cuoco La prova del cuoco è quella che fa la clerici Doviamo mettere le ricette Lo so se ho No 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 Delle ricette vado di là Non è le ricette Poveri ma la prova del cuoco È il nome della canzone Perché loro non cucinano cibo Che cosa cucina che cosa? Nonostante la fama Siamo sempre rimasti noi Con le solite cuffiette da 3 euro di Aliexpress Aspettate un attimo c'è un problema Aspetta Tiro fuori l'orecchio No non tirarlo fuori così Papà Rimo Non riesco perché Lasciala lì l'orecchio Aspetta No ma infila dentro No lasciala lì Mettila così Prova a vedere Ma guarda Ma non è Turalo Dove sono? Dov'è la prova del cuoco? Arriva Un attimo Eccoci qua Papà Rimo FSK Prova del cuoco Produzione Greg Willen Non dormire Perché si lo conosco Veniva Sai che lui c'è là col vai a let Lui dice Greg Il suo Greg Willen Produttore Dice Greg Willen Non dormire Perché ha paura che tu gli dici Vai a letto Dopo glielo dico allora Dai avanti No raga voi vedrete molti bip E tagli su varie cose Perché sennò Sto video non lo riesco a caricare Quindi raga Non scrivete nei commenti Io mi dico Perché hai tagliato tutto? Perché ragazzi Sennò non è Ma riusciamo a partire Prima di mezzanotte a vederlo O devi ancora parlare? Ok sei così entusiasta Andiamo Siamo partiti qua Ma guarda Ma cosa l'hanno fatto? Sono dati un bacino Perché? Si vogliono bene Ma c'è bisogno di darsi un bacio così A sua bocca Anche il mio collega d'ufficio Quando arrivo in ufficio Mica lo bacio Anche se gli voglio bene Non lo so A me lo daresti un bacino così? No Con la bocca E' schifo Ognuno è lì Però siamo nel 2022 Allora questo qua che vedi E' sapobulli Sì sì Gli occhi che vedo Sono già un po' È presente quando tiri fuori la trotta Che è già Due giorni che è lì Eh? Sì sì Ecco Si hai fatto un bel nasino qua Viste che ha fatto? Ok Questo invece è Taxi B Sì che c'è dentro anche il regno Nel naso cosa c'è dentro Quando deve fare il nariggio Cosa è? Cosa gli si intatta? Ma lascia stare Non farmelo vedere Quella roba lì Che non la sopporto Eh pirpa Pirpa che ti fa bene Eh sì Qua cosa fa Deve far vedere Che deve andare a fare l'intervento Alla luce Vai Sì non è effettivamente Dei bei piedi Non so perché Avevano deciso Guarda come è tutto storto No ma più che questo dito qua Guarda questo qua E' piatto il pollice E' un po' anche pericolo Cosa mette dentro? Hai sentito cosa ho detto? Ti ho detto che è una prova del cuoco un po' Ma che prova del cuoco? Quella mica mette dentro la farina dentro lì Eh no appunto Mette la Mamma mia L'ha già vinta? Già vinta Cucinando quella roba lì L'ha vincita di sicuro Sì è certo Perché la clerica non capisce più niente Eh sì Mi piattano E gli dà il premio Così almeno lui va via Dai andiamo avanti va Vanno pazzi per il cuoco Dico e faccio Ah vanno pazzi per il cocco A te piace il cocco? Il cocco? Eh sì Eh però è sui dolci Ma ti piace prendere il cocco intero E poi spezzarle e mangiarle i pezzi di cocco Oppure quello? Ah ma anche grattugiato mi piace di più Eh What? Con il brodomo Ti riduce con la brodomo Coca Ti taglia via Tu mi fai così con le tue amici della gang Ma che c'ha cacciato fuori la lingua C'è un po' le papille bianche lì Guarda che roba No come che sei un dottore Bella va con la nina Cosa ha mangiato questo Che altro è la cookie Dai andiamo avanti va Ah ecco questa è una cosa che mi interessa Spera Avevo in mente di farlo anch'io Magari adesso loro non vedono bene E mi sposto un attimo così Avevo in mente di fare Anch'io il colore delle unghie nere Tu fatele Di notte io ti faccio i moncherini Hai capito? Intanto che dormi Cosa sono i moncherini? Sì Ti tagli Sì esatto Sì Ah figo Prova Prova Fale anche rosse nere Non c'è nulla di male Sì Siamo nel 2022 Io poi come ti ho fatto Ti disfoli Tutto Dani è sempre mezzogiorno Sì Fammi tu un attimo la sua mossa Scusami No con la lingua fuori Guardate la faccio rivedere un attimo Questa qua Che l'occhio deve essere sempre bello Questo qua è un po' sveglio Quell'altro è un po' Vanno passi per il cocco Guarda oh Cosa è successo? Mi ha buttato dentro la cenere nella padella Tu non lo fai per cucinare? Ma sei fuori Tipo mi fai la pasta Poi ceneri un po' Ma va 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 Per piacere Da quel gusto di acidulo Eh acidulo Sì te lo do io l'acidulo Poi analizziamo anche il testo bene Dico e faccio con il brodmo Ti riduce al colabrodo Ti riduce al colabrodo Dico e faccio come il brodmo Ti riduce al colabrodo Dico e faccio come il brodmo Ti riduce al colabrodo Ti riduce al colabrodo Oh è arrivato un altro Questo è chiello Questo qua almeno Questo è chiello Questo qua mi sembra quello un po' più messo bene Ok Cosa c'ha quello là? Deve fare sta facendo ginnastica Sì Sono esercizi di mattutini Sì Mattutini sì Che caccia vuole sempre Ma che cosa c'è? A livello musicale Invece ti stava entusiasmando la canzone Un po' Un po' Ti piace però Ma io preferisco Mambolo Beh sì ma Ricordami un pezzo della canzone Per ora abbiamo ascoltato Mi preferiti sono Mambolo Che sciva Ci siamo ma Ricordami un pezzo della canzone Cosa stanno dicendo adesso C'è un qualcosa Faccio con la brodo Faccio con la brodo Li raccolgo Adesso tutti e tre Vediamo che il più sano che guida Se ti tracchiamo di nuovo Cookie mamma Sapo In tasca Cookie mamma Cookie mamma Cookie mamma sai cos'è? È un gioco di cucina Cookie è quello È la Cookie è la La carta d'uomo Perché abbiamo cookie dente Ma cookie dente sarà Magari lo spazzolino? Ah Sì lo spazzolino Devi beccarci col ferro Ti beccarci col ferro? Tu ce l'hai Il ferro io ce l'ho Perché quando vado in zona 3 Io ce l'ho sempre dietro Sì Ma è come grande Fammi una stima Una roba così Nessuno mi può toccare Tiro fuori il ferro Faccio un casino E se io ti faccio la bella Potresti tirarlo fuori anche per me Ti faccio tutta con la brodo Se mi tocchi Dai Sono arrivati Oh Non c'è più canzone Aspetta Ho preso la videocamera Ma Non riescono a guidare Concetti come sono No dai poveretti Un salutone Se volete fare un video con noi Ci siamo Mi raccomando Bello C'hai capelli come me Hai visto quello là Sempre online Un chilo di retto dalgana Un chilo di gancio? Un chilo di arancio? Cosa che dici? Non penso proprio Bisco te Questo attacco è bellissimo Sempre un chilo di retto dalgana Per dire la testa Per mano Cos'è l'ultima puntata Sembra Che sta facendo Devono Seppellire qualcuno Devo fare l'orto Eh non mi seppellendo un amico Tu Davvero Atterra a questi drughi Faccio tutto i ponca puzza Aspetta Ma questo qui Che lingua parla Tutto un monosilabe Adesso ha detto che fa la puzza Puzza Deve andare in bagno Non lì A far la puzza Dai Va avanti Tutto i ponca puzza Faccio tutti i ponca puzza E tiro si i drughi Cos'è che dice? Io non ci capisco Ma che lingua è? Eh deve interpretarlo Come interpretarlo? Cioè l'italiano e francese Non è che uno può inventarsi una lingua La mattina o la sera Panca puzza Bello però Tira a testa questi drughi Faccio tutto i ponca puzza Ripeti Tiro tutti sti droghi Faccio ponca puzza Ponca puzza Ma gli stanno seppellendo i soldi Eh niente vedi Gli stanno togliendo Gli hanno trovati sotto terra Ma cosa ha gridato nell'orecchio? Mi fa male Eh? È arrivato È arrivato taxi B Ma chi se ne frega Mi ha spaccato le orecchie No non è taxi quello che canta Chi cacchio è? Sì no È taxi questo qua Taxi è arrivato col taxi Dai andiamo avanti Dai gli stanno chiedendo gentilmente di Non è come si è Sono in modo gentile Gli sta dando una mancia No gli sta dando una mancia Il video che va riverso Gli voleva arresto allora Se no glielo dava Che sono loro? E vincono la prova del cuoco E sono roccia dura Roccia pura Dura? Pura Perché è dura Pura Vanno pazzi per il cocco Continua a farci Con il brodo Eh si vede che c'è il con la nasa Se c'è il gratta Eh? Il con la nasa Ma va dove c'è i pantaloni Quello lì Tutte le sue cose Lascialo fare Altro che cuoco Dai vai avanti Vanno pazzi per il cocco Di che faccio con il brodo La prova del cuoco Diretta dal bai Non dormire Ah Io ragazzi Sinceramente ho visto tutto Ma tranne che la prova del cuoco Ragazzi Ma come non hanno cucinato un botto? Ma che cos'è che ha cucinato? Ha buttato dentro la cena La pentola Cosa deve aver cucinato che cosa? Ma sai cos'è la cucina questo qua? Che venga qua Che almeno gli faccio imparare qualcosa Sampo Bulli Taxi B Se volete un piatto di pasta con papà Rimo Scrivetemi in DM su Instagram Maldinianza Mambolusco mi ha fatto insegnare a preparare il sugo Quello vuol dire cucinare Capito? Adesso vado a preparare Però va Lasciando stare il video La musica ti piace? Sì È un ritmo abbastanza blando Perché vabbè L'occhiettino Poi però quando arrivi a gridare Però ogni tanto Qua dentro Salta dentro Qualche grida Però vabbè Ragazzi Io Lo sapete quali sono i miei preferiti Però vabbè Detto ciao ragazzuoli Io vi ringrazio per aver visto questa reaction Noi ci vediamo con una prossima reaction Se raggiungiamo i 20.000 Almeno 20.000 Mi raccomando Spolliciate Andatemi a seguire su Insta Chiaccio la rimoldigno Vi lascio qua l'Insta E noi ci vediamo In un prossimo video Bella ragazzi Tiro via sta roba che sto sciogliendo Ciao ragazzi Ciao 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 raga Ciao ciao